Sono almeno 10.000 i vicentini che hanno nel sangue FOA e FOS con un livello superiore agli 8 nanogrammi per millilitro. Sono i residenti della cosiddetta zona rossa, dove la falda è maggiormente contaminata dai FAS. Saranno tutti richiamati per la seconda fase del monitoraggio predisposto dalla regione. Mille di loro saranno convocati a breve, circa un terzo dei ragazzi tra i 14 e i 21 anni. Parallelamente, l'USBERICA, per chi ha valori più alti, sta avviando la plasma forese, praticamente un filtraggio del sangue per chi ha valori superiori ai 200 nanogrammi per millilitro. A giorni stanno per cominciare questo trattamento una prima tranche di 400 persone sulle 3.000 monitorate finora. Una procedura definita scambio plasmatico della durata di due ore per ciclo. A questo proposito, il movimento delle mamme, che sono state protagoniste nelle manifestazioni dei mesi scorsi, avanza inquietanti perplessità. Sembrerebbe che i donatori di sangue e plasma potrebbero trasferire a loro insaputa anche i FAS, non essendo stati sottoposti ad alcun screening specifico. Inoltre, le mamme stanno organizzando una massiccia spedizione di raccomandate, indirizzate alla MITENI, dove, allegando gli esami del sangue che comproveno la contaminazione di FAS dei propri figli, manifestano la grande preoccupazione per il grave danno alla salute subito. Un primo passo per la richiesta di risarcimento danni verso chi ritengono il principale responsabile del clamoroso inquinamento ambientale.